Ciao e benvenuto a questo nuovo approfondimento di astrospace.it. Oggi parliamo degli accordi Artemis, una serie di dieci principi che gli Stati Uniti stanno proponendo a tutta una serie di partner internazionali e che finora 36 stati hanno firmato. Si tratta a tutti gli effetti della più grande collaborazione internazionale mai costituita in termini di esplorazione spaziale. La storia degli accordi Artemis però è molto profonda e risale agli anni 60 e inoltre il loro futuro potrebbe essere ben più complesso di quello che sembra. Come lascia intuire il loro nome, gli accordi Artemis sono ovviamente legati al programma di esplorazione lunare Artemis. Per capire bene nel dettaglio cosa sono questi dieci principi facciamo quindi prima un passo indietro e vediamo brevemente quando è nato il programma Artemis e come è nato. Possiamo definire allo scopo di questo video il giorno della nascita del programma Artemis come l'11 dicembre 2017. In quel giorno l'allora presidente degli Stati Uniti Donald Trump pubblicò la sua prima direttiva sullo spazio. In questo documento veniva cambiato il focus di esplorazione spaziale umana a lungo termine della NASA da Marte, dove era prima stato fissato dall'amministrazione Obama, alla Luna. Con questa nuova direttiva gli Stati Uniti volevano istituire un programma di esplorazione lunare che portasse l'uomo sulla Luna per restarci questa volta, a differenza di quello che era stato fatto negli anni 60 con Apollo. In più questo programma doveva essere un trampolino per andare poi in futuro su Marte. Il tutto venne formalizzato a partire dal 2019, inizialmente quando il vicepresidente Mike Pence, annunciò che il ritorno sulla Luna doveva essere fatto molto più in fretta e molto meglio. In particolare spostò un ritorno abbastanza generico che era stato fissato per il 2028 sulla Luna, lo spostò al 2024. Impose quindi alla NASA e a tutto il settore spaziale una vera e propria corsa alla Luna. Per anni infatti il 2024, non so se ve lo ricordate, è stata la data in cui la NASA aveva imposto di eseguire il primo allunaggio del programma Artemis, che attualmente è fissato con la missione Artemis 3 per il 2026. Pochi giorni dopo l'annuncio del vicepresidente Pence, l'amministratore della NASA comunicò che questo nuovo programma si sarebbe chiamato programma Artemis. Ora immaginate di trovarvi appunto nel 2019 e la NASA e gli Stati Uniti stanno per costruire questo nuovo programma di esplorazione lunare che si basa su due principali caratteristiche, anzi facciamo tre. La prima è che questo programma deve essere commerciale, cioè deve coinvolgere molte aziende private, ma non solo come partner, ma anche per permettere loro di fare del business legato all'esplorazione lunare, quindi di creare dei programmi che possono essere commercialmente profittevoli. Il secondo aspetto invece è, come abbiamo accennato prima, è che questo programma avrebbe dovuto portare, anzi dovrà portare, l'essere umano sulla Luna questa volta per restarci. Quindi intorno al programma Artemis stanno nascendo tutta una serie di attività come per esempio la stazione spaziale internazionale che sarà posta attorno alla Luna, il Lunar Gateway, oppure il programma CLPS, oppure tante altre attività per portare tutta una serie di infrastrutture a sostegno dell'esplorazione umana delle missioni Artemis. Il terzo punto, ed è quello fondamentale allo scopo di questo video, è che il programma Artemis doveva essere un programma internazionale. Ora nel 2019 la NASA quindi sta facendo nascere il programma Artemis, un programma che vuole coinvolgere partner privati, partner pubblici, partner internazionali e ha quindi bisogno di una spinta in più da un punto di vista normativo e legislativo. Crea quindi gli accordi Artemis, una serie di dieci principi che vanno ad aggiungersi all'attuale diritto internazionale. Quest'ultimo è basato principalmente su un grande trattato che è stato firmato nel 1967. Si tratta del trattato sullo spazio extra-atmosferico. È stato firmato in origine dagli Stati Uniti e l'Unione Sovietica e dal Regno Unito, diciamo le due più una principali nazioni impegnate nell'esplorazione spaziale, ma successivamente praticamente tutti gli Stati lo hanno firmato. Quindi possiamo dire che è il trattato che regola attualmente praticamente tutta l'esplorazione spaziale e soprattutto quella oltre l'orbita terrestre. Giusto per fare un esempio, questo trattato impone che nessun corpo celeste come per esempio gli asteroidi, i pianeti o la Luna può essere reclamato da uno Stato o da un'azienda come territorio. Quindi per esempio è questo trattato che impone il fatto che gli Stati Uniti non possono dire che la Luna sia loro solo perché ci sono arrivati nel 1969 e hanno piantato una bandiera per primi. Quindi non lo possono fare, non lo potranno mai fare. Quindi questo è un po' lo scenario su cui si basano i dieci principi Artemis, un trattato sullo spazio extratomosferico che non vanno a sostituire, a sovrascrivere o a modificare, e un programma Artemis che vuole essere il più grande programma di esplorazione spaziale mai tentato dall'umanità e che coinvolge diversi partner e soprattutto diversi stati. Come abbiamo detto prima, attualmente sono 36 i paesi firmatari. Prima di vedere però nel dettaglio quali sono questi dieci principi di cui stiamo parlando, c'è bisogno di specificare l'ultimo punto che forse è uno dei più importanti. Questi dieci principi, questi dieci accordi Artemis infatti, non sono un trattato. Essi vengono infatti firmati fra gli Stati Uniti e il paese firmatario, ma non prevedono una firma comune. È per questo, per esempio, che vediamo vari paesi firmarli a distanza di anche parecchi anni. Dal 2020, in cui c'è stata la prima firma, ad oggi, nel 2024, abbiamo visto 36 paesi firmarli un po' alla volta. Questo perché la firma degli accordi Artemis in realtà viene fatta dopo che sono stati stipulati con la NASA diversi altri accordi. Per capire questo punto facciamo un attimo un piccolo passo indietro. Adesso, all'alba di una nuova corsa alla Luna, sono tanti gli Stati e le aziende che non vogliono perdere le opportunità industriali, economiche, ma anche politiche di questa nuova corsa alla Luna. Quello che bisogna fare, quindi, è muoversi per organizzare un proprio programma, una propria missione lunare. Non tutti gli Stati, però, hanno le risorse per fare questo. Allora devono associarsi e devono aggregarsi ad un programma preesistente. Per fare questo, ovviamente, si rivolgono al programma Artemis in modo prioritario oppure alla Cina che sta organizzando il proprio programma di esplorazione lunare. Per proporsi al programma Artemis, quindi per partecipare all'esplorazione e a tutte le missioni collegate del programma Artemis, la NASA semplicemente richiede una firma su questi accordi. Però anche la NASA ci guadagna perché in cambio di questa firma gli Stati Uniti impongono la loro direzione, quindi la loro influenza sull'esplorazione spaziale e lunare. Quindi, ricapitolando, il punto focale è che la firma di questi accordi Artemis avviene solo una volta che i due paesi, Stati Uniti e il paese firmatario, si sono accordati su tutta una serie di collaborazioni industriali e vantaggi che uno o l'altro possono dare per facilitare il programma Artemis. Si tratta in un certo modo di una firma di scambio, anche se questo è un termine un po' azzardato, però credo che renda bene l'idea. Ciao, mi interrompo solo un secondo per dirti che sul nostro shop, su astrospaceshop.it puoi trovare la nostra prima guida in offerta esclusiva. Perché? Perché sta per uscire la seconda guida, il secondo volume, su un argomento che ancora non spoileriamo, ma uscirà a marzo e fino a usaurimento scorte, e non ce ne sono ancora molte, puoi trovare su astrospaceshop.it sul nostro shop, oppure cliccando qui direttamente, la prima guida ancora scontatta. In più, proprio in questi giorni, il telescopio spaziale Euclid, che è l'argomento principale della prima guida, ha iniziato la sua campagna scientifica, quindi ha iniziato le sue operazioni scientifiche, quindi non c'è momento migliore per acquistare, se ancora non l'hai fatto, la nostra prima guida, la guida completa al telescopio spaziale Euclid. Ora, è arrivato il momento, dopo aver discusso del perché vengono firmati questi accordi e a cosa servono, è arrivato il momento di vederli un po' più nel dettaglio, perché alla fine qui sta il succo della questione. Cosa c'è scritto in questi dieci accordi Artemis? I dieci principi che compongono gli accordi Artemis sono questi. Il primo, l'uso pacifico dello spazio, in accordo ovviamente con il trattato sullo spazio del 1967, rimarca l'importanza del fatto che lo spazio deve avere un utilizzo pacifico. Inoltre si intende che la cooperazione riguardante il programma Artemis deve essere un punto di partenza per poi migliorare anche la cooperazione sulla Terra. Il secondo principio, la trasparenza, richiede che i firmatari operino con un alto livello di trasparenza, condividendo i piani e i principi delle loro missioni in modo da ridurre eventuali malintesi e soprattutto aumentare la fiducia fra le nazioni partecipanti. L'interoperabilità promuove l'utilizzo di standard industriali internazionali in modo che si possa avere una forte interoperabilità in caso di emergenza fra i diversi mezzi dell'esplorazione spaziale. L'assistenza in caso di emergenza prevede che i paesi firmatari si impegnino ovviamente ad assistersi a vicenda in caso di emergenza e che si metta sempre al primo posto la sicurezza degli astronauti e il soccorso reciproco. La registrazione degli oggetti spaziali ribadisce l'importanza di registrare tutti gli oggetti spaziali in modo ovviamente conforme al trattato sullo spazio extra atmosferico. Poi la pubblicazione dei risultati scientifici impone, come dovrebbe essere scontato, che tutti i risultati scientifici derivanti da missioni lunari siano pubblicati in modo appunto pubblico e quindi a beneficio di tutta l'umanità. Il principio sulle risorse spaziali stabilisce che le risorse spaziali debbano essere un bene prezioso per l'esplorazione spaziale e quindi trattato in modo sostenibile. La prevenzione ai detriti spaziali incoraggia delle pratiche responsabili per ridurre i detriti spaziali e quindi mantenere l'orbita terrestre ovviamente e anche l'orbita lunare più sicuri e un po' più puliti. Come penultimo principio è stato posto anche un principio sul patrimonio spaziale col quale si riconosce l'importanza di preservare i siti storici che ovviamente sono principalmente i siti delle missioni Apollo. Per ultimo la risoluzione dei conflitti prevede che ci possano essere la creazione di safety zones, cioè la creazione di aree di interdizione motivate dagli scopi delle attività che si andranno a svolgere su quelle aree. In tal modo si ritiene di poter abbassare la probabilità che ci siano situazioni conflittuali. Ecco quindi questi sono i dieci principi Artemis, li abbiamo visti brevemente, sono in realtà un documento di circa una quindicina di pagine, quindi non sono di certo così riassunti ma non sono neanche un tomo da centinaia di pagine. Ora come abbiamo detto prima attualmente i paesi firmatari a febbraio del 2024 sono 36. I primi ad averlo fatto lo hanno fatto nel 2020 ad ottobre del 2020 e sono stati otto. Per la prima volta e in realtà poi anche l'unica finora ad ottobre del 2020 si arrivò alla firma contemporanea di otto stati. Nel 2020 quando appunto ci furono questi otto paesi firmatari essi erano l'Australia, il Canada, il Giappone, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e l'Italia. Ora come spero sia stato chiaro da questo video i dieci principi che compongono gli accordi Artemis non sono una nuova forma di diritto internazionale che la NASA e che gli Stati Uniti quindi hanno imposto al resto del mondo. Essi si basano sul trattato dello spazio extra atmosferico che è il mezzo principale su cui a sua volta appunto si basa il diritto internazionale spaziale. Quest'ultimo è rispettato anche dai paesi che non hanno firmato gli accordi Artemis. Questo quindi non vuol dire che se la Cina e la Russia e tanti altri stati non firmeranno gli accordi essi non rispettano i principi che sono indicati negli accordi Artemis che come abbiamo visto leggendoli sono a loro volta praticamente una riscrittura del trattato sullo spazio extra atmosferico. In più ovviamente abbiamo un caso specifico che è quello della Cina e di conseguenza della Russia che non firmeranno gli accordi perché stanno lavorando, perlomeno la Cina sta lavorando attivamente ad un proprio programma di esplorazione lunare che è anch'esso un programma internazionale che quindi coinvolge altri partner. Però questo diciamo che è un argomento magari per un prossimo video fateci sapere magari con un commento qui sotto se può interessarvi un approfondimento sull'International Lunar Research Station che è il programma di esplorazione spaziale cinese. Ora per concludere gli accordi Artemis che sono stati firmati da 36 paesi e nei prossimi mesi se ne aggiungeranno altri, perlomeno questo è quello che ha dichiarato la NASA, sono dei principi che nei prossimi anni potremmo veramente vedere ampliarsi o comunque modificarsi, proprio perché con l'inizio dell'esplorazione lunare vera e propria, quindi con l'inizio delle missioni sull'orbita e sulla superficie, con astronauti potrebbero verificarsi delle cause specifiche che porteranno a modificare questi accordi. Questo diciamo che non dico che è quasi scontato, però è molto probabile che avverrà, quindi nei prossimi anni sentiremo molto parlare di questi dieci principi Artemis e da oggi sapete cosa sono, da cosa sono composti e come sono nati. Grazie quindi per aver seguito questo approfondimento di AstroSpace.it, noi ci vediamo domenica prossima, vi ricordo che appunto ne pubblichiamo uno ogni domenica, fateci sapere con un commento anche argomenti che magari vorreste che affrontassimo anche più nel dettaglio in questi approfondimenti, vi invito in caso a fare un salto sul nostro canale Telegram dove ogni giorno costantemente pubblichiamo tutti i nostri articoli ovviamente, ma anche tanti aggiornamenti più flash sull'esplorazione spaziale e sulle missioni in corso, sul nostro canale Instagram e ovviamente su AstroSpace.it per leggere tutti i nostri articoli. Grazie ancora per aver visto questo video e ci vediamo presto ad un nuovo approfondimento.